Ciao a tutti e tutte da Serie TV Italia, oggi parleremo della coppia Kerem Bursin e Andercel, interpreti di Serkan e Eda, nella serie tv turca Love is in the Air. La coppia con la loro storia ha conquistato i fan delle serie tv turche in tutta Europa e anche qui in Italia. Prima di andare avanti, se vuoi scoprire tutte le news e gossip sui tuoi attori turchi preferiti, trovi la nostra playlist sotto in descrizione, e non dimenticare di mettere like al video, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita. Di recente in un'intervista rilasciata alla rivista turca Urriyet, l'attore turco Kerem Bursin, che interpreta Serkan Bolat in Love is in the Air, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la sua relazione con Andercel, l'interprete di Eda, e ha fornito le motivazioni del suo ritorno in Turchia, dato che viveva in America. Kerem Bursin e Andercel si amano non solo sul set, ma anche nella vita reale. Sono stati loro stessi, qualche mese fa, con vari post su Instagram a rendere pubblico il loro amore, sbocciato grazie alle riprese della serie Love is in the Air, che in Turchia è giunta alla seconda stagione. Pur avendo reso nota la loro relazione, in un'intervista per un giornale turco, Kerem ha dichiarato di voler mantenere la riservatezza sulla sua vita privata, tanto che sia lui che Ander parlano sempre solo delle loro carriere. Infatti, Kerem ha dichiarato, non porto la mia vita personale al lavoro. Lei è il personaggio di Eda, io sono Serkan, aggiungendo che entrambi si avvicinano in maniera professionale al lavoro. L'attore di Serkan Bolat, per un periodo è stato lontano dalla Turchia, infatti, è cresciuto in America. Nella stessa intervista, ha dichiarato di essere tornato nel suo paese a causa della perdita di un suo caro amico a causa di un incidente. Il ritorno in Turchia ha permesso a Kerem Bursin di recitare il ruolo del ricco e affascinante Serkan Bolat, ha l'apparenza un uomo robot, come lo definisce sempre Eda, ma in realtà molto romantico. A proposito di ciò, Kerem ha ammesso di essere anche lui romantico, ma non negli schemi a cui siamo abituati. La sua interpretazione gli ha permesso di incontrare la donna che attualmente è la sua compagna Endo Lerchel, e a raggiungere un grande successo, tanto che alcune fan lo ritengono meglio di Kanyaman. E voi chi preferite Kerem Bursin o Kanyaman? Facci sapere la tua opinione sotto nei commenti e non dimenticare di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita. A presto da Serie TV Italia